I miracoli non sono ben visti, ma molto temuti. Hai paura? Sì. Fermo! Non devi, non hai niente da perdere. Fermo! Oggi hanno portato un ragazzo. Mi aiuti. Gli hanno sparato, l'hanno colpito e poi è successo qualcosa di strano. Se tu lavorerai con me con i tuoi straordinari poteri, io ti aiuterò ad andartene da questo posto. Figlio mio, sorgi! L'ex membro del personale ha aiutato un rifugiato a scappare. Dammi tre giorni e te lo riporto indietro. Va bene, e la cosa finisce qui. Svegliati, c'è la polizia. Andiamo via da questo posto di barca! C'è qualcosa di molto strano in quel ragazzo. Chi stai cercando? Mio padre. E dimmi, ti manca? Moltissimo. Sai che ha fatto tuo padre? Ti ha abbandonato. Vola! Conosci un posto sicuro? Non esiste un posto immune dai tormenti della storia. Perché sei vivo? Tu hai uno scopo e forse anch'io ho uno scopo. Conosci un posto diOMPO. Grazie per la visione! Ric 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 Ric